arrivano le anticipazioni di uomini e donne delle registrazioni di questi giorni ieri e oggi sono state registrate nuove puntate che andranno in onda solo tra qualche settimana nel frattempo attraverso ciò che riporta il vicolo delle news è possibile sapere cos'è accaduto nello studio di canale 5 durante il pomeriggio di domenica 24 ottobre 2021 non sono mancati i colpi di scena e anche i baci in particolare a vivere nuove emozioni sono state le due troniste andrea nicole con va precisato che al momento il programma del maria de filippi per quanto riguarda il trono classico vede protagoniste solo le due ragazze mentre joelle milan si è ritrovato costretto a chiudere il suo percorso in anticipo matteo fioravanti ha già avuto il suo lieto fine ora tocca alle due troniste trovare l'anima gemella all'interno della nota trasmissione mediaset ed ecco che per entrambe sono arrivati dei baci secondo le anticipazioni andrea nicole roberta hanno baciato i loro rispettivi corteggiatori a telecamere accese da quando c'è il covid 19 in circolazione i tronisti tendono a viversi questi momenti spegnendo le luci dei riflettori questa volta i baci non sono stati oscurati dalle telecamere andrea nicole ha baciato di nuovo cipria naften ancora una volta la tronista ha dimostrato di essere molto presa dal corteggiatore sebbene si fidi di più di alessandro anche per roberta è arrivato il momento di dare il suo bacio a luca salatino questo momento è molto atteso dal pubblico di canale 5 infatti sono già in tanti coloro che tifano per loro si pensa che la giusti sceglierà appunto lui ovviamente bisogna attendere la scelta prima di scoprire effettivamente cosa dice il suo cuore ciò che si sa dalle anticipazioni di ued è che per entrambe le troniste i baci sono stati belli e intensi non sono di certo mancati i soliti batti vecchi trattina cipollari e gemma galgani quest'ultima purtroppo si è ritrovata nuovamente a salutare un corteggiatore